L'attore statunitense ha avuto la sua settima figlia con la moglie Ilaria. L'annuncio con un dolcissimo post su Instagram. Si allarga la famiglia di Alec Baldwin e sua moglie Ilaria che, con la nascita della loro nuova bimba, arrivano ad avere ben sette figli. L'ultima arrivata di casa Baldwin, infatti, è nata il 22 settembre ma è stata mostrata pubblicamente solo oggi con un video su Instagram dove i due neogenitori che hanno svelato di essere diventati genitori di una settima figlia, Ilaria Catalina e Elena. La piccola, infatti, è stata presentata a tutti con un breve video su Instagram dove, la coppia, ha dato la lieta notizia e che mostra le prime immagini della bimba. Punto Lei è qui. Siamo emozionatissimi nel presentarvi il nostro piccolo sogno diventato realtà sono le parole di Alec e Ilaria che sono al settimo cielo per la nascita della piccolina di casa. Insieme alla dolcissima dedica dei neogenitori, già mamma e papà di altri dei figli, ci sono state anche le immagini inedite della piccola Ilaria appena uscita dal pancione, sia io che lei siamo felici e in salute, ha aggiunto Ilaria, i suoi fratelli baldovinito trascorrono la giornata conoscendola e accogliendola nella nostra casa. Siamo felicissimi di celebrare con voi questa meravigliosa notizia.La settima gravidanza dopo alti e bassi è un terribile incidente. Quella dei Baldwin è una famiglia enorme, sei figli, di cui la settima arrivata lo scorso 22 settembre dopo una gravidanza difficile che ha segnato una svolta nella vita di coppia tra Alec e sua moglie Ilaria. I due, infatti, prima di mettere al mondo un'altra bambina stavano vivendo un momento di difficoltà, accentuato anche dal fatto che l'attore è stato coinvolto in un brutto incidente sul set dove ha ucciso, involontariamente, una persona della truppe per un colpo accidentale di pistola. I due, insieme, hanno attraversato questo momento e lo hanno superato con forza. Questa gravidanza, inoltre, ha messo a dura prova il fisico di Ilaria, già provata dopo sei parti che aveva ammesso recentemente di sentire che il suo corpo non ce la faceva più a sopportare il peso di un'altra gravidanza. Sarà l'ultima?